L'importanza che mettono loro a questa gara la dobbiamo mettere altrettanto noi perché è una gara fondamentale, è uno step importante anche per noi, bisogna dare continuità a quanto fatto nella partita precedente e nel percorso che è stato tracciato e fatto fino ad oggi. Di fronte sicuramente avremo una squadra che soprattutto in casa ha dei numeri importanti, ha raccolto dei punti importanti per il proprio obiettivo, una squadra che all'interno della propria rosa ha quegli elementi tali da permettergli di poter cambiare sistema di gioco, di poter cambiare atteggiamento perché possono decidere in base a quelle che saranno le valutazioni del proprio allenatore di giocare in orizzontale piuttosto che in verticale e viceversa, hanno giocatori di profondità, hanno giocatori di palleggio e questo gli permette di fare valutazione e di assumere atteggiamenti diversi in base alle circostanze. Dall'altra parte noi dobbiamo dare continuità di prestazione e soprattutto di risultati, io credo che per affrontare bene le partite ci sia bisogno anche di equilibrio, quindi è un discorso che sicuramente si può prendere in considerazione una partita in corso, non lo escludo, che possano giocare tutte e tre insieme, parlo di caratteristiche e non di interpreti, però io credo che almeno nella fase di studio, almeno nella fase iniziale ci sia bisogno di quell'equilibrio che poi possa permetterti di entrare all'interno della gara, all'interno della partita con la forza e con l'energia giusta. Dei diffidati, come ho già detto in precedenza, non intendo andare in gestione, quindi fare delle scelte in base a quelle che sono le situazioni delle diffide, delle ammunizioni non mi va bene perché ho la possibilità di avere una rosa ampia e quindi nel momento in cui, come è successo nella partita precedente, qualcuno si ritrova fuori che sia infortunio o per squalifica, ci sono altri giocatori che in questo momento danno la possibilità di avere delle certezze, così come è successo anche domenica. Rientra Rocca, rientra Sgarbi, ma questo non deve essere, come ho sempre detto, un problema, deve essere una possibilità. Dobbiamo ragionare partita dopo partita. L'obiettivo oggi è quello di fare una grandissima prestazione domani, di riprendere il nostro cammino fuori casa, di riprendere a fare il risultato fuori casa, e questa è la cosa che più ci interessa e dove noi metteremo sicuramente più attenzione e più energie. Poi, dopo passata la partita di domani sera, ci concentreremo sulla prossima, che chiaramente sarà un'altra partita importantissima anche per quello che poi sarà l'avversario e sappiamo quanto sia importante per tutti. La continuità è quello che ti fa arrivare in una posizione migliore e per arrivare a quello c'è bisogno di fare il risultato domani, è inutile nascondersi, è questa la verità e questo è un dato di fatto.